L'Italia è il paese con il più alto numero di net, ossia giovani tra 18 e 29 anni non impegnati nello studio, nella formazione o in attività lavorative. Sono infatti quasi 2 milioni e mezzo. Uno spaccato che si riflette in maniera lineare anche in Toscana e nella provincia retina. Ed è proprio a questi giovani che è rivolta all'iniziativa Crescere Imprenditori, promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Sistema Camerale, l'attuazione affidata per la nostra provincia alla Camera di Commercio di Arezzo. Si parte possibilmente da un'idea imprenditoriale di base e si cresce con un percorso di 80 ore formative svolte presso la Camera di Commercio che aiutano a capire e ad affrontare tutti i passaggi e tutte le formalità che bisogna conoscere e fare per essere imprenditori. Ma la cosa interessante di Crescere Imprenditori è che vede un insieme di istituzioni, c'è il Ministero del Lavoro, c'è Union Camere, ci sono le Camere di Commercio e ci sono anche i centri per l'impiego collegati a Garanzia Giovani. La dimensione di questa questione è molto ampia in Toscana, parliamo di 70 mila giovani fra i 18 e i 29 anni che sono in questa condizione di nette, quindi non hanno un impiego, non stanno facendo formazione, ovviamente sono in questa situazione di attesa. Gli offriamo a questi giovani questo percorso formativo Crescere Imprenditori proprio per portarli in questa dimensione operativa di formazione e quindi possibilmente di lavoro. Il progetto partirà con i primi di settembre, già da ora però è possibile iscriversi presso la piattaforma Garanzia Giovani dalla quale noi procederemo a fare la selezione dei giovani che accetteremo, che faremo partecipare a questo percorso formativo.